Ben trovati amici alla nostra rassegna stampa, la rassegna stampa di Fano TV. Vedremo insieme oggi le notizie pubblicate dai giornali, il quotidiano, il resto del Carlino e il Corriere Adriatico. Oggi è giovedì 10 febbraio 2022, il sole sorge alle 7.13 e tramonta alle 17.31. Iniziamo la giornata sotto la protezione del santo del giorno e vediamo chi è, è Santa Scolastica. Santa Scolastica è la sorella di San Benedetto, San Benedetto fondatore del monachesimo d'Occidente. Anche Santa Scolastica, che poi era la sorella gemella di San Benedetto, fondò un convento sia su Biaco che nelle falde dei Monte Cassino. I due fratelli spesso si ritrovarono insieme per pregare e vivere la vita monastica. Finché Scolastica, sentendosi vicina la morte, pregò il fratello di trattenersi almeno qualche giorno nel suo convento. San Benedetto non ne vedeva la ragione e voleva ripartire, ma un temporale appena fuori dal convento lo convince a restare ed era un temporale che Santa Scolastica aveva richiesto a Dio affinché potesse restare negli ultimi istanti della sua vita con il fratello. Fu così che la Santa ricevette l'ultima visita appunto di San Benedetto prima di rendere l'anima a Dio. Un miracolo che riportano le fonti. Ed ora diamo un'occhiata al tempo, vediamo come si comporta il tempo nella nostra regione. Il tempo continua a essere stabile con l'alta pressione che rimane nel territorio regionale, il clima è piuttosto mite con temperature massime che arriveranno fino a 16 gradi e le minime fino a 6 gradi, quindi dalle 10-11 della mattinata la temperatura dovrebbe essere piuttosto gradevole. Venti deboli e più moderati da sud ovest sui crinali e sulle coste invece espirano da ovest. Le temperature comunque sono in calo rispetto alla giornata di ieri. Apriamo oggi il Corriere Adriatico e vediamo l'articolo di apertura. Il Carnevale celebra l'amor scortese, satira e divertimento si fanno in tre. È stata presentata ieri nella Sala della Concordia del Palazzo Municipale il programma della settimana grassa che inizierà il 24 di febbraio e terminerà il primo di marzo. Non c'è la sfilata, non ci sono le sfilate dei carri, purtroppo il Covid ancora non permette tali assembramenti, però ci sono iniziative che cercheranno di fare rivivere la vivacità, la tradizione del Carnevale di Fano. Eventi per la settimana grassa 4 e 5 giugno e ferragosto. Sono tre i momenti del Carnevale di Fano di quest'anno. Dato che i bambini sono ancora a scuola e sono alle prese con la DAD, con tutte le norme anti-Covid, per loro sarà riservata una parentesi un fine settimana nel mese di giugno, quando si spera che la situazione migliori. Il 4 e 5 giugno ci saranno dunque manifestazioni dedicate alle famiglie e ai bambini. E poi nei weekend di Ferragosto ci sarà la sfilata dei carri, dato che è estate sulle lungomare di Sassonia, un po' come l'anno scorso, quando la sfilata ha ottenuto un grande successo. E vediamo dunque qualche iniziativa che si svolge appunto nella settimana grassa. Ci sono delle presentazioni di libri, soprattutto quella di Manna e di Clapis, che rileva l'operato dei giovani carristi, spesso sottaciuti e che non riescono ad arrivare alla ribalta cittadina. In realtà sono loro le promesse della tradizione carristica fanese. E poi vediamo che ci saranno delle cene, dei concorsi in maschera, delle mostre. Ce n'è una in particolare che riguarda degli inediti dell'artista e carrista Pierluigi Piccinetti, uno dei massimi esponenti della tradizione del carnevale fanese. E poi abbiamo anche il consiglio comunale degli bambini e dei grandi, che si terrà nel foyer del Teatro della Fortuna in pieno periodo di carnevale con un'impronta ovviamente tutta carnevalesca. Il giovedì grasso sarà festeggiato in piazza con l'elezione del sindaco del carnevale e la consegna delle chiavi della città tra il sindaco Massimo Seri e il sindaco appunto del carnevale stesso. Amici senza frontiere, abbraccio ancora virtuale. Si è consumato un anno, nell'8 di febbraio, dal gemellaggio che Fano ha stipulato con la città spagnola di Gandia. Un anno di relazioni, di vicendevoli scambi, di gruppi che hanno visitato una volta Fano, una volta Gandia e che ora si vorrebbe insomma rivitalizzare, però al momento non ci possono essere iniziative, appunto sempre a causa della pandemia. È in programma il 19 marzo un plotoncino guidato dal presidente dell'associazione Amici senza frontiere Massimiliano Barbadoro che raggiungerà la Spagna per conferire un tocco di italianità alle Fallas che per Gandia, Fallas sono quella manifestazione carnevalesca che per Gandia riveste lo stesso valore che a Fano riveste il carnevale. Insomma un cemellaggio che si vuole tenere molto vivo e molto attivo. Nuovo Palasport a Chiaruccia, la variante arriva in Consiglio. Si è molto parlato in questi giorni della localizzazione del Palasport a Chiaruccia che è stata cambiata dalla Giunta perché al posto dove era stato indicato originariamente questa struttura si farà lo stadio Mancini. Dunque il nuovo Palasport a Chiaruccia, la variante arriva in Consiglio, ha ricevuto l'ok anche della Commissione Urbanistica mantenuta la previsione dello stadio, come abbiamo anticipato. E poi abbiamo la Lega che dopo aver richiesto le dimissioni del Vice Sindaco Fanesi chiede un confronto in Consiglio Comunale su come verrà investite le risorse che giungeranno a Fano dal PNRR. Un passaggio storico ma la maggioranza va in solitaria e quindi anche l'opposizione vuole essere coinvolta nell'impiego di queste risorse che costituiscono un'occasione irripetibile perché tanti soldi di solito non si vedono e quindi non arriveranno in futuro. Un'occasione che va ben ponderata per la sua unicità e va messa a frutto in maniera effettiva e in maniera che vale per quanto riguarda la città di Fano. E poi un episodio di cronaca importante perché i carabinieri hanno individuato il piromane che ha messo a fuoco alcuni cassonetti. Sono stati quattro gli episodi che si sono così succeduti con il passare del tempo e l'ultimo proprio uno di questi giorni e proprio l'ultimo ha premesso agli inquirenti di individuare appunto il piromane. Si tratta di un trentanovenne che vive a Fano e danni sono stati anche per migliaia di euro. C'è stata la soddisfazione del presidente dell'ASET Paolo Reginelli perché un cassonetto costa mille euro ed è una cifra che va conteggiata sulle bollette dei cittadini e quindi alla fine questi danni chi li paga? Li paga chi paga le bollette ovvero i cittadini. Quindi individuare questo vandalo è stata una azione meritoria in quanto finalmente insomma non accadranno almeno per un po' di tempo si spera più questi atti vandalici. Il Porto Futuro è un progetto che è stato presentato ieri nel mercato ittico all'ingrosso dall'amministrazione comunale e dalla associazione umanesimo artificiale e carnage. Sono due associazioni che hanno preso in esame l'assetto del porto e lo vogliono qualificare. Ovviamente c'è stato anche il concorso di molte istituzioni, la Regione, il Comune di Fano eccetera. Si dipingeranno le facciate dei cantieri con dei murales, si organizzeranno dei laboratori. Insomma si farà rivivere il porto non solo come zona industriale ma anche come zona turistica e zona che è attiva per quanto riguarda il rapporto con la città. Insomma i cittadini potranno aggirarsi liberamente nella zona del porto e vivere quell'atmosfera caratteristica che esso esprime già dalla sua antichità. Il Porto Futuro, questo è il titolo del progetto. E veniamo a Fossombrone dove la chiusura del Monte di Pietà desta ancora non solo perplessità ma proteste. Si vuole sapere di più e ne vuole sapere soprattutto rifondazione comunista. Savelli ricorda tutto quello che è stato fatto per evitare questo destino. Sappiamo che il Monte di Pietà è stato acquistato da un istituto di credito e ora però non si sa più che fine stia facendo. Insomma Fossombrone non vorrebbe perdere questa istituzione che è data addirittura al XV secolo. È stata istituita nell'anno in cui è stata scoperta l'America. Una tradizione lunghissima nel tempo che ora sta per finire in una bolla di sapone. E poi abbiamo un episodio di cronaca a fondo pagina per quanto riguarda la Val Metauro una Molotov sotto l'auto della sorella condannato. Si tratta di una 45enne di calcinelli che ha patteggiato una pena a un anno e otto mesi. Ebbene la sorella ha scoperto sotto la macchina parcheggiata davanti a un bar di calcinelli una bottiglia di Brandi stravecchio riempita per metà di alcol e con all'estremità un innesco. Un innesco che è stato poi attivato perché le fiamme hanno cominciato ad intaccare l'auto. Per fortuna il pronto intervento dei vigili del fuoco sono riusciti a spegnere prima che andasse ha distrutto completamente il mezzo e poi si è scoperto appunto che era il fratello l'autore di questo gesto per vecchi erugini familiari che avrebbero spinto il 45enne appunto a fare questo gesto, questo atto vendicativo. Insomma la cosa però è finita come doveva finire, ovvero con l'individuazione del giovane. Passiamo a San Costanzo. È l'associazione Ambiente Vivo Valcesano che protesta perché non ha avuto il riscontro positivo da parte della provincia. L'associazione Ambiente Vivo protesta contro l'ampliamento della discarica di Monte Schiantello. Più volte ha presentato anche delle osservazioni alla provincia. Ha chiesto un incontro con il presidente Paolini ma secondo quest'articolo sembra che questo incontro non sia stato concesso. Appunto l'ampliamento della discarica di Monte Schiantello è da una parte un provvedimento opportuno per perpetuare la vita di questa struttura molto molto importante per tutta la provincia e dall'altro ovviamente è un provvedimento contestato specialmente da coloro che ci vivono nei dintorni, nelle vicinanze perché procura guasti di natura ambientale. Quindi Ambiente Vivo Valcesano Paolini non ci ha ricevuto. Vediamo a questo punto la pagina di Pesaro di Pesaro sul Corriere Adriatico. Si parla del secondo casello di Santa Veneranda e il secondo casello fuori la rotatoria e dentro la ciclabile. Sono dei particolari questi che sono emersi ieri nella riunione del Consiglio di Quartiere di Santa Veneranda che è stato presieduto da Giordano Tamanti. Sono stati mostrati degli elaborati arrivati dalla società autostrade relativi alla porta sud della uscita e dell'entrata dell'autostrada A14. Questo ha portato dei chiarimenti su due opere viari accessori all'infrastruttura molto importanti per quanto riguarda appunto la situazione logistica dei residenti nei pressi. Si tratta della ciclabile che c'è, della rotatoria invece che non c'è. Questo lo riferiscono alcuni consiglieri di quartiere dopo aver ascoltato la presentazione da parte dell'assessore all'urbanistica Mila della Dora. E invece arriva al nuovo parcheggio e io chiudo il chiosco di famiglia. È l'assessore Franco Ellucci che parla in questo modo. Il gazebo a San Decenzio mi ha fatto entrare in politica, ha detto l'amministratrice. Nel momento in cui arrivano 200 posti auto e lei chiude il chiosco di famiglia appunto nel cimitero centrale. Insomma una spiegazione che il giornale chiede appunto all'assessore per avere contezza di questa piccola contraddizione. Insomma perché lei chiude quando arriva al parcheggio che magari può incentivare gli affari della piccola struttura. Invece è una grande struttura, la Rocca Costanza a Pesaro, un contenitore storico di grande importanza culturale che verrà adibito, pensate, ad ospitare il museo di Dario Fo e Franca Rame. Dario Fo è stato presente spesso a Pesaro per il ROF. Ha fatto delle regie, delle opere programmate appunto dalle Rossini Opera Festival. E un contenitore così prestigioso come Rocca Costanza può rilevare il rapporto che Dario Fo ha avuto appunto con la città di Pesaro. E questo grazie ad uno stanziamento del Ministero della Cultura che ha messo a disposizione 2 milioni e 350 mila euro per la rigenerazione degli spazi e la gestione comunale di Rocca Costanza. Lo ha comunicato il sindaco Matteo Ricci con il vice sindaco e assessore alla bellezza Daniele Vimini. Dunque una nuova destinazione, una nuova funzione per Rocca Costanza. E poi qui vediamo dei particolari in questo articolo per quanto riguarda la destinazione, l'idea di condurre uno spettacolo all'interno del Teatro Rossini da parte di Valentino Rossi. È un giallo svelato, insomma si sapeva qualcosa ma non si sapeva tutto. È un giallo svelato. Valentino Rossi ha prenotato, dice il Corriere, l'intero Teatro Rossini per presentare il nuovo Mooney R46 Racing Team. La data è stata resa nota via social alcune ore fa. Sarà il prossimo 24 febbraio alle ore 12. Nell'avviso lanciato con un video dal fratello Luca Marini, direttamente dall'Indonesia, è poi ribadito con una locandina ufficiale per il 2022 Season Lunch. Non viene indicata la location ma viene genericamente spiegato che sarà visibile su tutti i canali social del team perché si attende in queste ore il via libera della Commissione Comunale alla luce dei lavori che si stanno facendo all'interno del Teatro Rossini. Ma ovviamente la location scelta è quella del Rossini ed ecco appunto svelato il giallo. Comunque questa è un'iniziativa che interesserà a pochi perché si potrà cedere soltanto suo invito al Teatro Rossini ma intanto Valentino Rossi rimane legato alla città di Pesaro. Ancora sul Corriere Adriatico abbiamo una dichiarazione del primario di medicina di Marche Nord Gabriele Frausini che ha annunciato una notizia interessante ovvero all'ospedale di Fano e di Pesaro è arrivata la pillola anti-Covid. Si tratta del Paxlovid, il farmaco di Pfizer. Si tratta di una medicina importante di tipo curativo e non preventivo per far fronte appunto all'emergenza ancora in atto. E poi sono stati ricavati nuovi spazi per curare i pazienti con farmaci antivirali. Il medico pioniere del trattamento degli anticorpi virali ovvero dei anticorpi monoclonali nelle Marche, pensate 400 pazienti sono stati creati, curati, vuole anche dare una svolta alla gestione della pandemia e questo è Gabriele Frausini. Niente mensa perché senza Green Pass ma il giudice ne ordina la riammissione. Si tratta di un trentenne pesarese autistico che era stato escluso dalla mensa ma il prevedimento è stato ritenuto illegittimo da parte del giudice. E a questo punto diamo un'occhiata anche al resto del Carlino. Vediamo la pagina di Fano e si parla in questo caso di sanità e della privazione della guardia medica a Fano e a Mondolfo. Chiusura delle guardie mediche. Salta Martini dice c'è sempre l'alternativa del 118. Ebbene però la soppressione del servizio che sarà garantito solo nel weekend inizierà dal primo marzo. Insomma la carenza dei medici colpisce ancora. L'assessore regionale è un problema nazionale su cui possiamo fare ben poco ma ci stiamo provando. Insomma veramente è una situazione sempre più grave quella dell'assistenza ospedaliera a causa della carenza dei medici. Ne è consapevole anche l'assessore regionale alla sanità Filippo Salta Martini il quale ha dichiarato la mancanza dei medici è un problema nazionale ed io non ho la bacchetta magica. La verità è che nel corso degli ultimi anni i medici non sono stati formati secondo appunto Salta Martini. Stiamo cercando una soluzione ma il contratto nazionale di lavoro dei medici di famiglia prevede l'incompatibilità tra il loro ruolo e quello dei medici di guardia medica. Quindi non si possono attingere nel serbatoio di medici di famiglia ulteriori medici per la guardia medica. È la negazione della medicina territoriale. Insorge anche Mongolfo, privato anche questo comune della guardia medica, la regione si attivi. Minoranza e Comitato Cittadino per la salute pubblica vanno all'attacco. Le RSA e le strutture sanitarie non possono permettersi questa perdita, hanno detto. Un'intera famiglia intossicata dal monossido ha fatto ricorso alla camera iperbarica della iperbarica adriatica, una struttura che essendo affano ha un raggio d'azione interregionale. Addirittura vengono dall'Abruzzo in caso di emergenza per essere curati con questa struttura. E in questo caso è stata una famiglia fanese che aveva arrostito il pesce sul balcone ma dopo cena per scaldarsi aveva portato in casa il barbecue dove era rimasta la carbonella accesa. Ebbene così i genitori, i nonni e due bimbi di 9 e 12 anni, tutti di origine albanese, sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio e quindi la corsa verso l'iperbarica adriatica. Un altro caso è accaduto in Abruzzo dove quattro giovani, sempre stranieri, di età compresa tra i 20 e i 36 anni, intossicati per le esalazioni di un bracere che usavano per scaldarsi e hanno trasportato appunto, sono stati trasportati con le ambulanze sia nelle strutture di Pescara che in quelle di Fano dove anche loro dopo diverse ore di intervento se la sono cavata per fortuna. Cassonetti Aset, dati alle fiamme, denunciato il presunto piromane, anche il resto del Carlino interviene su questa notizia di cronaca, i carabinieri hanno individuato un 39enne fanese con precedenti e c'è anche la soddisfazione del presidente Reginelli. In questa pagina si parla di carnevale, qui vediamo il manifesto del carnevale realizzato da un grande artista Bruno d'Arcevia, sull'amor scortese, bene c'è un appunto con un pennarello, ma è un pennarello stampato, non è un pennarello fatto sopra il manifesto, con anche due graffiti intorno a questa figura femminile che ricorda un po' la statua della fortuna fanese e c'è il detto non è ciò che sembra, non è come appare insomma. Sotto sotto c'è tanta ironia e qualche segreto, qualche significato in più. E poi si parla anche in questo caso del porto, la trasfigurazione del porto, il porto futuro, tra street art e musica, presentato il progetto che punta a farne un polo creativo anche attraverso i murales sui capannoni industriali appunto delle banchine. A Chiaruccia il nuovo palace e anche lo stadio, se rireplica chi chiede il perché di una variante, quando c'era già un'area a destinazione sportiva, l'Udc proclami per celare le difficoltà ribatte il partito di opposizione. E poi ad Urbino invece abbiamo le celebrazioni federiciane che ricevono i primi spiccioli, si tratta di pochi soldi, ovviamente a paragone dell'importanza della manifestazione, le celebrazioni federiciane. Federico e Montefeltro è stato uno dei campioni del rinascimento italiano. Sono arrivate 160 mila euro dal Ministero della Cultura che dovranno essere divisi tra Urbino e Gubbio, perché anche Gubbio era uno dei domini dei Montefeltro, dove appunto è nato addirittura il Raupollo di Federico, il figlio di Federico. Non vogliamo il tetto al valore dell'energia. Forte preoccupazione del sindaco Gambini, chi produce corrente col fotovoltaico rischia una brutta sorpresa. Infatti c'è una voce che si aggira che tanto più di tanti kilowatt chi ha il fotovoltaico non può produrre e questo limita ovviamente l'investimento di chi si è rivolto alle fonti di energia rinnovabile rispetto invece a chi consuma l'energia, quella abituale che è in molte case, insomma quella tradizionale prodotta dalle fonti fossili. E vediamo anche che per Sasso Corvaro sono in arrivo 20 posti letto per il Lanciarini. L'ospedale di Sasso Corvaro Auditore avrà più disponibilità per la lungodegenza. Salta Martini, sempre l'assessore regionale alla sanità, dice manderemo anche sei medici e 24 infermieri. E concludiamo la nostra rassegna stampa con l'interrogativo che il resto del Carlino pone per quanto riguarda Fossombrone. Che fine ha fatto il monte di pietà? Qualcuno parli. Ancora non si sa, c'è un mistero per quanto riguarda questo interrogativo per questa struttura che abbiamo detto risale di un'importanza storica eccezionale ed sarebbe veramente un peccato per Fossombrone perderla definitivamente. Bene, questa era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta. Vi dà appuntamento come sempre a domani mattina alle ore 7 e per le notizie del giorno al notiziario di Fano TV. Occhio alla notizia delle ore 20.30 di stasera condotto da Simona Zonghetti. Questo è tutto, a risentirci, buona giornata. Grazie a tutti.